Allora, siamo con Amadori Garcia, siamo nella tua palestra, la MMA Atletica Boxe. Esatto. Allora, finalmente vengo in questa palestra che è veramente la cucina degli sport da combattimento, dell'MMA, del grappling. Tu, ho visto che hai una marea di diplomi, parliamo un po' di cosa sei specializzato. Hai iniziato a sei anni a fare sport da combattimento. Sì, ho iniziato molto presto a fare sport da combattimento con mio padre che era lottatore di lotta greco-romana e mi ha iniziato lui e col tempo, in maniera molto naturale, sono andato poi a sfociare nell'MMA, ma in maniera molto naturale perché comunque il mio interesse è sempre stato quello di trovare il combattimento a 360 gradi, quindi non solo in piedi, non solo una disciplina, ma sapersi ambientare su ogni piano, ogni momento. Quindi oltre all'allenamento, hai fatto dei corsi e ti sei specializzato nelle varie discipline. Sì, esatto, sono specializzato come può essere il fuggilato. Ah, fuggilato, infatti qua vediamo i vari diplomi del fuggilato. Sì, sono tecnico federale di fuggilato, sono maestro su di shoot pop, allenatore di Vizio Pantialat, allenatore di graffi e cintura marrone di Brasilea Girazzo. Bene, devo dire che è un bel curriculum. Sì, negli anni mi sono sempre più specializzato, sono sempre andato a cercare di migliorare, a cercare di essere sempre più preciso in ogni disciplina. Beh, qui vedo delle foto con dei grandi campioni. Dov'eri? Beh, io qua ero in Brasile, alla Brazilian Top Team. Ho allenato gente come Edson Barbosa, che è un campione dell'FC, forse è uno dei migliori striker che ci sono adesso in Brasile. L'ho allenato per parecchio tempo, per un mese che sono stato lì. Qua sono per esempio con il maestro di Edson Barbosa, che tra l'altro ho seguito anche lui. Bene, allora sul prossimo numero di Voodoo International andiamo a scoprire il tuo background. E soprattutto sappiamo che nella tua palestra hai cinque professionisti. Chi sono? Sì, allora sono Salvatore Maresca, sono Annitta Torti, Stefano Paternò, che è un ragazzo molto giovane di 17 anni appena compiuti, che ha deputato a 16 anni nell'MMA dentro la gabbia, a contatto pieno. Poi ho Luciano, un brasiliano che sta migliorando sempre di più. E poi ho Max Capusella che si sta allenando perché prossimamente avrà un match da fare. Allora, ricordiamo i corsi che si possono praticare nella MMA Athletica Box. Allora, i corsi sono Brazilian Jiu Jitsu, MMA, Grappling, Box e Muay Thai. Ah, perfetto, quindi diciamo tutte le specialità principali degli sport da combattimento. Allora, ti ringraziamo per questa intervista. Ricordiamo però l'indirizzo e il sito internet della MMA Athletica Box. Allora, l'MMA Athletica Box si trova a Milano, Milano Sud, in via Corradio Il Salico, numero 14. E il sito, basta mettere su Google MMA Athletica Box e esce di tutto di più. Perfetto, ti ringraziamo per questa intervista e ci vediamo presto.